Buonasera e benvenuti a Motore Salute Tg. Bonus alle mamme annunciato e scomparso. Con mamma domani il contributo di 800 euro annunciato nell'ultima legge di bilancio, ogni mamma aveva diritto di poterlo usare per le prime spese legate al lieto evento. Gli esami preparati, i farmaci, il passeggino, la culla, i vestitini, tutto a partire dal 1 gennaio 2017, solo che ad oggi del modulo per fare domanda non c'è neanche l'ombra. A fine febbraio sull'home page dell'Istituto di Previdenza è spuntata una prima circolare che definiva nel dettaglio la platea dei beneficiari, cittadine italiane, comunitarie o extracomunitarie con permesso di soggiorno residenti nel nostro paese, tutte senza una soglia di reddito a differenza del bonus bebè che è legato all'Ise, il reddito certificato. Silenzio però su come presentare la domanda. Qualche giorno fa una seconda circolare ha delimitato ulteriormente il campo, ma tacendo ancora sulle modalità per la richiesta. Dall'Inps ora dicono che tre mesi di tempo tecnici per rendere operativa la piattaforma online erano previsti fin dall'inizio. Neonato artificiale o colp sintetica? I robot dilagano ovunque tra entusiasmo e paura. Il Museo della Scienza di Londra rilancia il dibattito con più di 100 androidi nella mostra Robot. La mostra spiega come gli androidi funzionano ma soprattutto si chiede perché noi umani sentiamo il bisogno di costruire macchine a nostra immagine e che cosa questo ci racconta della nostra identità, dei nostri desideri e anche dei nostri incubi. Qui ci sono robot soprattutto giapponesi che non solo lavorano ma offrono una bozza di interazione umana. Hanno una mimica facciale, incoraggiano col sorriso, arrivano quasi a piangere quando c'è da condividere un dolore. Sono stati concepiti per assistere gli anziani, gli handicappati e chiunque sia in difficoltà. Il limite estremo alla mostra di Londra è il neonato robot che si comporta proprio come un bambino, infinitamente più sofisticato e vero di una qualunque bambola a chi abbiate mai visto. Il capovolgimento del rapporto tra essere umano e robot è totale, allorché non è più l'androide a fornire una prestazione emotiva alla persona, ma è il robot ad avere disperato bisogno di una madre umana che viene clonata per regalargli un simulacro di felicità.